Siamo lieti di darvi il benvenuto da Dorianova presso il nuraghe del Sadome Sorcu che ospiterà l'evento Archeo Mode Musica. Il progetto Archeo Mode Musica fa tappa a Dorianova. Siamo a pochi chilometri da Cagliari e qui si trova il nuraghe Sadome Sorcu, costruito a 800 metri di altezza in una posizione spettacolare dalla quale lo sguardo può vagare, la mente può immaginare e alle volte anche sognare. Qui si respira la grandezza dell'antica storia della nostra isola. Oggi quella storia si incontra e si fonde con le creazioni degli stilisti moderni che la rivestono con i loro tessuti. È l'arte di ieri che incontra l'arte di oggi e noi di queste bellezze siamo i fortunati spettatori. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.